Gesù è il Signore, alleluia! Carissimi fratelli e sorelle, siamo ormai giunti alle porte della nostra Convocazione Nazionale e nel cuore della nostra Convocazione celebreremo, tra i tanti eventi meravigliosi, uno particolarmente significativo che è la liturgia penitenziale. La nostra attenzione sarà orientata attraverso l'esortazione spirituale che terrà Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, sul tema della riconciliazione a partire da un brano del Vangelo che è quello del Figlio il Prodico. Nella riconciliazione tra noi e Dio è fondamentale, l'umile riconoscimento delle nostre colpe, è fondamentale affidare a Lui il nostro sincero pendimento nella certezza che il Suo amore infinito ci renderà nuove creature. Dio è pronto a donarci tutta la Sua misericordia, tutto il Suo amore e ci chiede semplicemente qualcosa, l'unica cosa che veramente e totalmente appartiene a noi ed è il nostro peccato e in modo particolare il pentimento per il peccato. Nella consapevolezza che nulla rimane imperdonato, ecco, ci affidiamo profondamente a questo amore misericordioso di Dio e ci prepariamo al sacramento della riconciliazione. Considerate anche, cari fratelli, che saremo in migliaia e i sacerdoti saranno qualche centinaio, pertanto non tutti avranno l'opportunità di potersi confessare proprio in quel giorno. Ecco, per cui sarebbe bene se la nostra preparazione alla convocazione prevedesse nelle nostre comunità e nelle nostre parrocchie la confessione individuale, in modo tale da evitare, ecco, la difficoltà addirittura a potersi confessare a Rimini. Vi aspettiamo con gioia, il nostro cuore è pieno d'amore per questo evento di grazia che farà di noi certamente nuove creature per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. Vi saluto caramente, Gesù è il Signore, alleluia, alleluia. Siate felici, vivete nella gioia perché la gioia è la casa abitata da Dio.